Nella tua musica c'è molta energia. Perché? Perché giochi in questo modo? Questo è una questione complicata. Questo è chi sono. Io credo che tutti i miei eroi, i miei eroi musicali hanno tanto energia nella loro musica. Quando ero 11 anni, ho sentito Sidney Bechet per la prima volta. E ho pensato, come si può avere un grande energia e passione in loro playing? Coltrane e Louis Armstrong, questa enorme energia. Colman Hawkins, i miei eroi. Ma anche, quando si è stato un peito, quando è stato un peito incredibile, o la Beethoven Ninth Symphony, o la great Mahler Symphony. c'è tanta energia e passione. Penso che è la musica. È la energia, la energia poderosa. Qual è l'importanza della musica tradizionale come la musica klezmer? La musica klezmer è la musica dei miei ancestori, miei ancestori europei e europei. i miei ancestori. E i miei grandiani e i miei grandiani e i miei grandiani che venivano da gli USA da countriesi come Ukraine, Poland, Belaruse, Lithuania. E i miei eroi, i miei eroi, i miei eroi, i miei eroi, i miei eroi. i miei eroi, i miei eroi, o te i miei eroi. Le mie eroi, ma ho comparte le mie eroi, quali i miei eroi, i miei eroi due i miei eroi uviziali in Jerusalem. E le mie eroi trattato a Roma. So, you know, even Roman Jews have more lineage than my, you know, my family and so that like finding that again and reconnecting to that lineage and to that incredible, you know, that's I think it's important for everybody to understand who you are. And so through the music that's I've been on a great search, you know, sort of putting the pieces together back of my identity. And did you enjoy tonight to play here in this place so strange, so particular for a set, for a concert set? Well, you know, it's a beautiful natural amphitheater here with the buildings all around the church behind Siena is one of the most beautiful cities in the entire world. And so it's incredible to be here and incredible to make music and for an unappreciative audience. So that's always, always great.